siete pronte pronti a seguirci anche oggi oroscopo al manaco ciao da mauro oggi è san isaia profeta i compleanni andiamo all'imprenditore ma naturalmente presidente della lazio claudio lotito nato il 9 maggio del 1957 e poi nasce oggi mariano di vaio è un blogger un imprenditore anche modello 9 maggio del 1989 attenzione alla frase del giorno un buon governo deve avere almeno 5 p p come palermo prevedere provvedere pagare premiare punire ariete le ripicche generalmente sono inutili non servono a risolvere i problemi e neppure a farci stare meglio se avete ragione voi sarà il tempo a dirlo intanto preferite non reagire al torto subito toro rimandare potrebbe essere una soluzione se proprio non volete sentire ragioni impegnatevi con maggior forza per perseguire i vostri obiettivi in famiglia un po di tensione da tenere sotto controllo gemelli parlare serve sempre il dialogo è la formula vincente in ogni circostanza solo così infatti i problemi vengono sviscerati ed eventualmente risolti sforzatevi di tenerlo sempre a mente specie oggi cancro a farne le spese sarà il vostro partner che attenzione non è detto sia disposto a perdonarvi forse è meglio tirare i rem in barca leone grazie ad un compromesso risolverete tutti i problemi della giornata e poi vi sentirete enormemente soddisfatti di voi stessi se qualcuno vi confida un segreto non traditelo vergine scontri con un familiare faranno iniziare male questa prima giornata di giugno recandovi al lavoro però ritroverete il buon umore non rodetevi tanto le cose si appianeranno da sole bilancia il vostro egoismo oggi sarà in primo piano tanto nella sfera professionale quanto in quella affettiva sarà specialmente quest'ultima a risentirne di più lievi disturbi di natura nervosa scorpione non vi sentirete al massimo della forma fisica e questo condizionerà l'intero svolgimento della vostra giornata anche a casa stasera non saprete spiegarvi il perché di questo strano malessere sagittario vedere per credere il vostro motto per oggi ma non è detto che tutto sia subito visibile quindi finirete per fare la parte degli scettici momenti sereni con il partner capricorno più sincerità è quanto il partner pretende da voi e pensandoci bene non si tratta certo di una richiesta assurda un amico si fa vivo con voi dopo molto tempo vi farà felici acquario il vostro buon senso vi suggerisce di essere più pratici ma non la verranno i vostri sforzi per divenirlo quindi mettetevi il cuore in pace e accettate la vostra reale natura serata simpatica insieme ad amici pesci intraprenderete un percorso piuttosto irto e difficoltoso ma non per questo vi perderete d'animo convinti come siete che i frutti saranno molti e dei migliori non intestarditevi su una questione di principio